appesa per l'elastico al collo del pastorello rimasero intatti il viso scarno e la fionda d'acero appesa per l'elastico al collo lo avevano ucciso assieme ai suoi piccoli giochi commento una vendetta giunge a tre sentire diversi al sentire degli assassini al sentire di chi è vicino alla vittima e al sentire di chi viene a conoscenza della notizia e ne fa motivo di riflessione